Stare assieme e suonare assieme in un luogo virtuale, davanti ad altre persone. Fare un concerto, un concerto per la community di Rust all'interno di un'isola deserta, sapendo, consapevoli, che ci avrebbero ucciso al primo pezzo. Per chi non ci conosce, siamo un duo, io e Anselmo, io suono i sintetizzatori, canto, Anselmo canta e sono la batteria. Sì, è partito. Sì! La parte del progetto è prendere delle canzoni popolari da un giro per il mondo, da culture diverse, andare a sintetizzarne l'essenza, riarrangiarle per percussioni elettroniche e voce e fare una sorta di rituale. Per noi come gruppo è super importante la performance dal vivo. C'è il concerto dal vivo, il stare in un posto assieme ad altre persone. Siamo seminudi, coperti di fango e dipinti. Persone che cominciano a ballare con noi, si dipingono anche loro. Qui si crea questo respiro comune, collettivo. Su un genere che noi non sappiamo come definire a questo punto perché è antico, è antichissimo e contemporaneamente è futuristico. Naturalmente è la prima cosa che non si può fare in questo periodo di lockdown. Per cui suonare assieme in un luogo virtuale. Questa ci sembrava una valida alternativa. E non una sostituzione su lungo termine, ovviamente. Sì a Selvo, mi hanno arrivato il mano scolorato. Ho trascorso il compleanno dei 30 anni da solo a casa con la febbre. Però mi sono arrivati dei regali di compleanno. Tra cui queste bellissime ciabatte da Damon. E poi questo magnifico set da gamer. Che finalmente lo posso mostrare. Nel momento in cui ho visto il gioco, nasci nudo con una pietra e devi raccogliere risorse, pietre, eccetera. Fino a riuscire a costruirti una base e sopravvivere. Sì perché praticamente muori sempre. Ci sono gli orsi, ti ammazzano, muori. Ci sono i cinghiali, ti ammazzano, muori. Nuoti, affoghi, muori. Non mangi, muori di fame. Non bevi. Non bevi. Arriva un tipo col fucile, tu sei nudo con la pietra, arriva un tipo col fucile, ti ammazzano, muori. Quindi muori tutto il tempo. A un certo punto abbiamo deciso di entrare in questo server, invece è più per principianti. Entrando dentro abbiamo deciso di dichiarare le nostre intenzioni. Siamo musicisti, non facciamo del male a nessuno, vogliamo fare un concerto. Ovviamente il videogioco non è pensato per fare musica dal vivo. Se io suono il pianoforte ho un ritardo fra quando io sento il pulsante e quando io sento il suono. Cioè il soundcheck per questo concerto è stato lunghissimo. Comunque se avessi saputo che sarebbe stato così complicato mi sarei dedicato a imparare il cinese. Il server laggava, poi c'era ritardo, poi non riuscivamo a far partire assieme. Quindi abbiamo smontato gli strumenti dal palco, riportati nella sala prove per vedere se c'era un problema di connessione o un problema con la sequenza MIDI. Fino a che siamo riusciti a fare questo fantomatico concerto invitando dei giocatori, amici e un'alba davanti a un faro in questa baia, in questo palco con il fuoco. Siamo entrati, abbiamo messo un tappeto, come facciamo sempre, e al sorgere del sole abbiamo suonato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.